Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con il video della mia collezione personale di carte di Naruto Kaiou o Kaiou, come vi piace di più. Un video molto richiesto e atteso da molti di voi e sono finalmente qui a mostrarvi la mia collezione, aggiornata al 6 agosto del 2024, il giorno in cui sto registrando questo video. Quindi ovviamente in futuro ci saranno degli aggiornamenti, sempre se li vorrete, aggiornamenti della collezione con i vari set che andrò pian piano a completare. Mettetevi comodi ragazzi perché probabilmente sarà un video un po' più lungo del solito perché stiamo parlando ad oggi di all'incirca 970, 970 e qualcosa, carte, quindi siamo quasi vicino alle 1000 carte. Cercherò di essere veloce, di scorrere abbastanza velocemente, però ecco, probabilmente sarà un video che durerà un po' di più. Quindi non perdiamo altro tempo ragazzi e cominciamo subito con il primo raccoglitore. Eccomi qui con il primo dei raccoglitori che andremo a vedere oggi. Molti di coloro che stanno guardando questo video sapranno già più o meno come funziona il sistema di rarità delle carte di Naruto Kaiou. Però per quanti invece siano alle prime armi e non sanno come funziona, cercherò man mano che vi mostro le carte di spiegarvelo. Cominciamo quindi con il primo raccoglitore che racchiude e contiene all'incirca 560 carte totali. E nella mia collezione cercherò, e in questo video soprattutto, cercherò di mostrarvi le carte dalla rarità più bassa fino alla più alta, almeno di quelle di cui sono in possesso. Cominciamo con la prima, che è la rarità R, che sono carte molto semplici, che sono disponibili in due diverse versioni. Quelle non olografiche, che sono contenute in questo raccoglitore, ma ve le mostrerò molto rapidamente, perché poi vi faccio vedere direttamente quelle holo. E quelle holo invece che sono contenute nel raccoglitore. Sono 110 carte e io ho la collezione completa. Vi faccio una rapida carrellata, sono molto semplici, come vedete, delle illustrazioni di base su uno sfondo molto semplice. Ripeto, queste sono quelle olografiche. Ho dovuto spegnere la luce sopra la collezione perché avrebbe fatto troppo riflesso, ma comunque rimangono delle carte molto molto semplici. Poi se vi volete soffermare su una pagina in particolare, ragazzi, mettete in pausa il video e guardatela pure. 110, quindi le R e la collezione è completa, il set è completo. Andiamo poi avanti invece con le SR, che sono già, cominciano ad essere un po' più elaborate, leggermente più elaborate, più belline da vedere. Hanno sempre delle illustrazioni molto base con il personaggio, o giusto uno sfondo molto generico, magari del villaggio di appartenenza o di altre scene tratte dall'anime o dal manga, con una olografia molto semplice, ma comunque rimangono delle buone carte per essere praticamente, la seconda rarità della collezione. Ci sono dei pezzi molto carini, alcuni sono più belli piuttosto che altri, e questa rarità conta 108 carte. 108 carte, anche questo, il set è completo. E vorrei soffermarmi su questa inata, che è davvero bellissima, è anche di un certo valore, sinceramente, non ne ricordo bene il valore, ma comunque sicuramente dell'SR è quella che ha un valore un po' più alto. Poi andiamo con delle carte un po' particolari, che hanno i personaggi chibi, che sono le TR. Sono 62, e non sono molto apprezzate da tante persone, da tanti collezionisti di Naruto Kaiou, proprio perché non tutti amano questo stile chibi. Io all'inizio le guardavo con un occhio un po' troppo critico, però devo dire che poi guardandole meglio mi sono cominciate a piacere molto, quindi apprezzo molto anche questo set. Set compreso da 62 carte, e anche questo set completo. Molto simili alle TR, come se fosse, diciamo, un upgrade, ci sono le TGR. TGR è un set di 44 carte, sempre con personaggi chibi, come vedete, ma molto più elaborate nello sfondo. Anche l'olografia ha degli effetti un po' particolari, guardate che bella, per esempio, questa di Itachi, davvero bellissima. E anche queste, purtroppo non so quanto in video si riesca a vedere bene l'olografia di queste carte, ma sono davvero molto molto belle, super colorate, con degli effetti molto particolari sullo sfondo, e quindi anche queste, anche se un po' diverse da tutto quello che vedremo anche più tardi, nelle varietà un po' più alte, quindi quelle più elaborate e più belle, sono comunque delle carte molto carine da collezionare. Non sono tantissime, solo 44, e quindi anche queste ho il set completo. Poi passiamo ad un'altra varietà un po' particolare, che è quella delle HR, che sono 200. Sono 200 e sono anche queste, secondo me, molto belle, ma anche molto sottovalutate, una delle varietà meno apprezzate, almeno sentendo in giro. E hanno questa sorta di effetto 3D, non so se voi riuscite a percepirlo, che le rendono molto molto belline. Riprendono magari delle scene dell'anime, come queste ad esempio in orizzontale, oppure semplicemente degli artwork dei personaggi, guardate questa per esempio di Idan, che cambia in base appunto a come posizioniamo la carta. Sono anche queste molto belle, secondo me, a me ragazzi sono un po' di parte, mi piacciono veramente tutte queste carte di Naruto Kaiou, ce ne sono alcune che hanno delle illustrazioni molto simili tra loro, anche tra rarità diverse, lì si sarebbe potuto fare qualcosa di più, secondo me, ma ricordo comunque ragazzi che sono delle carte che costano veramente poco, anche se ultimamente i prezzi sono aumentati, perché da quello che si dice, sembra che abbiano smesso di produrle, almeno quelle più vecchie, e quindi comunque sono carte che si trovano a prezzi veramente molto bassi, si trovano soltanto all'estero, però ecco, io ritengo che siano delle carte molto molto belle, soprattutto ovviamente per gli appassionati di Naruto. Qui cominciamo ad avere anche degli artwork molto più belli, a parte questo Killer B, che sembra che abbia qualcos'altro in mano, e Tsunade ovviamente i soliti giapponesi, e comunque abbiamo qualche carta un po' più particolare, come vedete queste orizzontali, sempre con effetto tridimensionale, e devo dire, ripeto ragazzi, che io le apprezzo molto, non disdegno insomma anche di queste HR, anche queste sono 200, e sono riuscito a completare l'intero set, quindi 200 su 200. L'ultima rarità di questo primo raccoglitore, quindi arriviamo alle 560 carte di cui vi parlavo, sono le ZR. Io ragazzi vi ripeto, andrò un po' veloce, perché appunto ci sono quasi mille carte, quindi poi se volete soffermatevi, e vedete voi insomma la pagina, se siete interessati a vedere qualcosa in particolare. Queste ZR sono veramente bellissime secondo me, sono una delle rarità iniziali, ma secondo me sono un set meraviglioso, con lo sfondo, con questo kanji, cioè con il nome del personaggio dorato, e anche appunto l'olografia del personaggio stesso dorato, sullo sfondo bellissimo, lo sfondo molto colorato, e poi l'artwork del personaggio in primo piano. Anche queste a me piacciono tanto, sono poche purtroppo, sono solo 36 card, ma hanno una lavorazione bellissima, qui vediamo anche per esempio la versione kid, e la versione adulta di ciascun personaggio, anche questa è una cosa che apprezzo tanto, ad esempio Naruto con Naruto adulto, e anche a livello di olografia sono molto soddisfatto, perché hanno questi colori sgargianti, non so se riuscite a percepirli, ma vi assicuro che poi viste dal vivo, ragazzi, sono tutt'altra cosa, purtroppo non è semplicissimo rendere gli effetti di queste carte in un video come questo. Questo quindi era il primo raccoglitore, ragazzi, incluso anche questo dove, vi ripeto, avevo le R non olografiche, che sono proprio le carte più comuni, che si trovano soltanto nel tier 1, e questo era il primo. Adesso procediamo con il secondo raccoglitore, dove si va sempre in ordine di rarità. Quindi, questo raccoglitore, ovviamente ha meno carte, perché a differenza del primo, in cui ho completato tutti i set che ne fanno parte, in questo ci sono molti set incompleti, e cerco sempre di andare in ordine. Infatti, cominciamo, e qui comincia la collezione un po' più seria, dei set quelli un po' più ciccioni, un po' più belli da vedere a livello di artwork ed effetti. Cominciamo con il set delle SSR. Come vedete, l'impatto visivo, anche delle pagine complete, è di tutt'altro canto. Sono, secondo me, bellissime. Queste sono, tra l'altro appunto, come vi dicevo, delle rarità che è anche abbastanza semplici, sono anche abbastanza semplici da reperire, ma, come vedete, sono delle carte che, secondo me, danno due giri a tante altre carte molto più costose, molto più gettonate di altri anime o comunque di altri brand. Effetti molto belli, gli artwork ancora continuano ad essere poco esclusivi, diciamo, sempre tratti da, dall'anime, nella maggior parte dei casi. Però, come vedete, i vari effetti, le varie colorazioni, sono veramente qualcosa di eccezionale. in alcune carte, ovviamente, in modo maggiore rispetto ad altri. Come vedete, ci sono degli artwork riciclati, purtroppo, da altre rarità, ma questa cosa, per fortuna, non succede spessissimo. Anzi, ci sono molte animazioni, e molti artwork esclusivi, che rendono la collezione molto, molto bella, interessante. Le SSR sono 130, e anche in questo caso, set completo. mi dà fastidissimo quando si completa in questo modo, però ho cercato, diciamo, di distinguere le varie rarità. Poi, cominciamo ad entrare nel vivo della collezione, con una delle mie rarità preferite, di quelle intermedie, ovviamente, sono le UR. UR che sono 114, e qui le prime sono veramente eccezionali, con alcuni cercoteri o ginciuri, come si chiamano, bijou, come si possono chiamare anche in giapponese, che sono, secondo me, tra le più belle. E poi, sempre vari altri personaggi, con olografie, un po' più elaborate, e anche pose, un po' più particolari, per quanto riguarda, i personaggi. Trovo questa rarità, molto bella, molto accattivante, e sono veramente contento, di avere anche questo set, completo, di 114, di carte su 114. Andiamo avanti, dove ci sono carte, ancora più belle, come già potete vedere, da questa prima pagina, purtroppo, il set non è completo. Qui stiamo parlando, delle UR, e sono ancora, più belle, ed elaborate, secondo me, con questi kanji, con la scritta, dorata, sul fronte, degli sfondi, molto più elaborati, molto più, olografici, più colorati, di quanto visto finora. ci sono delle carte, veramente bellissime, guardate ad esempio, questa, o una delle mie, preferite, che è, questa, del terzo, Okage, davvero bellissima, a me fa impazzire. Queste carte, sono, invece, 22, purtroppo, ne ho solo, 22 su 106, ma, ci sto lavorando, per andare, a cercare, di completare, il set. completare il set, come questo set, invece, di AR. Anche questa, è una delle rarità, secondo me, più belle, disponibili, in due versioni, uno con sfondo, e colorazione dorata, uno con sfondo, e colorazione, argentata. Nel mio caso, ho preso, soltanto, quelle dorate, perché, mi piacevano di più, poi, eventualmente, quando, finirò la collezione, magari avrò, modo di, andare ad implementarla, potrei prendere, anche il set, argentato. Anche questi, hanno uno sfondo, nero, e come vedete, di base, sono card, che sono nate, come rarità, dedicata alla Katsuki, infatti, come vedete, le prime card, erano tutte, dedicate alla Katsuki, quindi sfondo nero, con effetti, rossi, e poi, dorati, in questo caso, saranno argentati, invece, per l'altra tipologia. Poi, siccome sono stati, un set molto amato, hanno continuato, con altri personaggi, come vedete, c'è anche, ad esempio, Kakashi, Itachi, abbiamo lo stesso, Boruto, Minato, Sasuke, insomma, hanno allargato la rarità, ad altri personaggi. A me queste anche, piacciono veramente tanto, sia come illustrazione, che come effetti, credono che siano, una delle rarità, più belle, sempre di quelle intermedie, ovviamente, e anche questo, set completo, di 66 card, su 66. Poi, c'è un altro set, costituito sempre, da due tipologie, due colorazioni differenti, che sono le SLR. Di queste, ne ho veramente, pochissime ragazzi, ci sono sia, di questo colore, diciamo, arcobaleno, che io chiamo, base bianca, diciamo, perché adesso vedrete, la base, invece, nera, quindi sempre colori vari, arcobaleno, degli artwork un po' particolari, molto belle, secondo me, con queste forme un po' geometriche, astratte, fiori, forme varie, insomma, molto carine, con base nera, e le altre invece, sono su base, con base bianca. E, queste comunque, la cosa brutta, diciamo, è che, sono due set completamente identici, quindi, questa illustrazione, questa Sakura, per esempio, la troveremo, identica, con la stessa illustrazione, ma con sfondo bianco, per quanto riguarda l'altra SLR. Queste SLR sono 60, quindi sono 60 bianche e 60 nere, e io ho 4 card su 60 di quelle bianche, e 7 su 60 di quelle nere. Poi, cominciamo a dei set, a vedere dei set un po' più piccanti, un po' più croccanti, come questo dell'SP, che non sono delle card, apparentemente, almeno le prime iniziali, bellissime, per quanto mi riguarda, perché sono racchiusi i personaggi, gli artwork, all'interno di questi quadrat, questi riquadri, un po' di forma rettangolare, un po' irregolare, ma poi, man mano che si va avanti, intanto, gli effetti, cerco di farveli vedere meglio, come vedete, ci sono vari effetti arcobaleno, olografie, con vari colori, che non sono per niente male, ma man mano che si va avanti, poi, nelle edizioni successive, nei vari tier che sono usciti dopo, vediamo che comunque, gli effetti interni, prima le immagini erano, cioè, gli artwork erano abbastanza iscritti, circoscritti all'interno di questo rettangolo, invece, poi cominciano un po' ad uscire, come all'esempio questa zunade, purtroppo di SP ne ho veramente poche, sono solo 7 su 69 totali, poi, andiamo invece con le CP, le CP sono un set che io amo, alla follia, perché mi piace tantissimo, sono solo 10, e ovviamente le ho 10 su 10, ce le ho tutte, e sono delle carte molto belle, con questi artwork, con i contorni, neri abbastanza decisi, come potete vedere, molto stile fumetto, con vari kanji dorati, scritti in verticale, che probabilmente riportano il nome del personaggio, e sullo sfondo, una interpretazione di quelli che sono i maestri, del personaggio in questione, quindi per esempio abbiamo Naruto, e dietro Jiraiya, i maestri, oddio, degli esempi, spesso, esempi dei maestri, insomma, delle persone, di riferimento, molto importanti, per quel personaggio, abbiamo Naruto, con Jiraiya, Sasuke con Itachi, Sakura con Tsunade, Rock Lee con Maito Guy, eccetera, eccetera, e poi i tre ninja leggendari, con le rispettive, invocazioni, evocazioni, questo è un set molto bello, vi ripeto, a me piace veramente tanto, che finisce con, questa carta qui, che è la CP, quindi 10 su 10, poi ragazzi, siccome la pagina appunto, era incompleta, ho voluto, continuare questa rarità, con le LR, che sono una sorta di carta promo, che sono molto simili, alle CP, quindi sempre base nera, e poi, artwork dorato, molto elaborato l'artwork, molto bella l'illustrazione, in tutte queste LR, e a differenza delle CP, ovviamente, non hanno il personaggio, in primo piano, quindi, comunque rimangono, molto belle anche queste, il set completo, molto semplice, da 6 carte, e come vedete, 6 carte, anche questo set, è completo, poi ha avuto un ottimo, un ottimo colpo di fortuna, a trovare, in un box, questa carta, una carta speciale, di Naruto, per il ventesimo anniversario, molto carina, molto contento, di averla trovata, quindi messa qui, sempre alla fine, di CP e delle LR, poi, in questo raccoglitore, c'è un'ultima carta, che anche se non è in ordine di rarità, ma per il momento, l'ho messa in questo raccoglitore, che è l'unica MR, che sono delle carte bellissime, che dovrò recuperare il prima possibile, tanto belle, quanto difficili da trovare, io ho solo questo cavuto, per il momento, e il set di MR completo, conta 62 carte, ed è tutto anche per questo raccoglitore, quindi, questo raccoglitore completo, di qualche set completo, altri meno, che conta all'incirca 367 carte, quindi siamo all'incirca, sulle 920, poi, un altro raccoglitore, questo appena iniziato, ragazzi, non manca molto, per la fine della collezione, quindi le rarità, un po' più alte, ovviamente, più andiamo verso l'alto, meno carte ci sono, questo raccoglitore, è appena iniziato, e conta, contiene soltanto, una rarità, che è quella delle GP, che in realtà, sono meno rare, delle MR, di cui ne ho una sola, ecco perché, una carta sola, l'ho messa nel raccoglitore, che abbiamo visto poco fa, queste sono altre card, che sono le GP, che sono molto poche, sono 24, ovviamente, più andiamo su colorarità, meno card ci sono, però, più salgono di valore, queste GP, secondo me, sono eccezionali, sono veramente bellissime, a me piacciono veramente, tanto, 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 hanno questa base, color argento, con le illustrazioni dorate, fanno un po' il verso alle LE, le GP, che abbiamo visto poco fa, diciamo, però al posto dell'oro, troviamo, questa base argentata, e le colorazioni rosse, anche qui, molto belle, molto piene, come vedete, le illustrazioni, molto belli, gli sfondi, molto belli tutti gli effetti, e sono una delle rarità, che mi piacciono di più, e adesso cominciamo ad andare, ovviamente, verso l'alto, come vi dicevo, questo raccoglitore, è stato appena iniziato, quindi non contiene, altre rarità, ragazzi, e, mancherebbero, altre rarità, che sono le CR, NR, NR, BP, ed SE, che sono, le rarità che io definisco, disumane, quelle, per cui veramente, c'è da sbustare, un sacco di box, oppure comprare i set completi, quello, infatti, che ho fatto io, è stato, prima di tutto, andare a comprare più box possibili, ne ho comprati forse, in totale, una trentina, trentacinque, per poi, ragazzi, andare a riempimento, perché dopo un po', ci si riempie di doppioni, andare a riempimento, comprando i set mancanti, questo, invece, è il quarto, ed ultimo, raccoglitore, che contiene soltanto, 20 carte, ed una sola rarità, queste sono le carte nuove, della nuova generazione, diciamo, di Naruto Kaiju, definita Ninja Age, queste sono, in particolare, le PTR, e sono 20 card, quindi, per il momento, ho il set completo, di queste PTR, che sono molto carine, anche queste, secondo me, riprendono varie scene, con questo contorno, bianco, argento, nessun grande effetto particolare, però mi piacciono molto, perché sembrano quasi, delle locandine di film, ed episodi vari, dell'anime, molto belle, anche queste, e questo sarà, per il momento, questo raccoglitore provvisorio, il raccoglitore che conterrà, appunto, tutte le nuove card, ed eccomi qui, ragazzi, per la conclusione del video, spero che la collezione, vi sia piaciuta, che si sia vista bene, soprattutto, e che vi sia piaciuto, anche questo video, ringrazio sempre, Sara, che è una grande iscritta, ormai da tempo, al canale, che un po', mi ha mischiato questa malattia, del collezionismo, di Naruto Kaiou, sono delle card che io trovo, veramente, molto, molto belle, e molto economiche, rispetto a tante altre, che secondo me, poi, sono gusti personali, non sono fatte, altrettanto bene, e, non sono facilissime da reperire, soprattutto, in Italia, ovviamente, bisogna sempre, prenderle dall'estero, soprattutto, da Aliexpress, o comunque, dalla Cina, ma, io reputo, che sia una collezione, bellissima, che, mi invoglia, sempre di più, ad andare avanti, e cercare, di completarla, anche se vi dico, ragazzi, che sarà, veramente, veramente, difficile, completarla, al 100%, perché, conta, all'incirca, 1300, 1400, carte, con precisione, non so, con quelle nuove, ovviamente, ci sono delle rarità, veramente, molto, molto, alte, che, arrivano a costare, anche un set completo, anche più di, 2000, 3000 euro, quindi, ecco, sarà molto difficile, completarle, ma, cercherò, di andare avanti, cercherò, di portarvi, più carte possibili, e, magari, farò un aggiornamento, della collezione, una volta, che avevo raggiunto, un buon punto, fino a quando, almeno, cioè, almeno, quando avrò, le rarità, che io definisco, umane, umanamente possibili, io, come vi accennavo, in precedenza, ho, sbustato tantissimo, all'inizio, ho comprato, diversi box, di diversi tier, differenti, e, per il gusto, ovviamente, di sbustare, di trovare le carte, poi, dopo un po', io, purtroppo, non ho nessuno, con cui scambiarle, e, quindi, mi sono, riempito, di doppioni, e, quindi, ho cominciato, ad andare, un po', ad esclusione, e, a comprare, i set interi, ovviamente, quelle, soltanto, le carte, che mi mancavano, per questo, ringrazio, ringrazio, Sara, Sara Zulian, che, mi ha aiutato, tantissimo, in questo, e, niente, ragazzi, fatemi sapere, voi, invece, se collezionate, le carte, di Naruto Kaiou, se, come le disponete, anche all'interno, dei raccoglitori, non critichiamoci, a vicenda, per favore, perché ognuno, credo, che sia libero, di collezionare, come gli pare, quando gli pare, e, di mettere, la sua collezione, nell'ordine, che vuole, come vuole, quindi, fatemi sapere, se il video vi è piaciuto, se vi è piaciuta, la collezione, qui sotto, nei commenti, e mi mettete, mi piace al video, e iscrivetevi al canale, se non l'avete fatto, anche se non è propriamente, un canale, dedicato solo alle card, ma come vedrete, se fate un giro sul canale, appunto, ci sono diversi video, tra collezionismo, di varia natura, soprattutto, di doll, in scala 1 a 6, action figures, ma anche, figurine, card, e quant'altro, quindi, datevi un'occhiata, se volete, detto questo, ragazzi, ci vediamo, come al solito, a un prossimo contenuto, fatemi sapere, mettete mi piace, alla prossima, ciao ragazzi! Grazie a tutti!